Ciao, mi chiamo Andrea Puglisi, ho 30 anni e sono un attore di origine catalese. Circa dieci anni fa mi sono trasferito a Roma per studiare recitazione all'Accademia Fondamenta e dopodiché ho continuato il mio percorso di specializzazione studiando doppiaggio insieme a Massimo Corpo e Angelo Maggi. Parlo perfettamente il francese, parlo molto bene anche l'inglese, oltre a parlare naturalmente l'italiano. Tra i dialetti che riesco a parlare c'è il mio dialetto nativo che è il dialetto siciliano. Sempre la stessa cosa, dialetto siciliano, mafia, il padrino. Vabbè, si scherza un po'. Tra gli sport che ho fatto c'è uno dei miei più grandi amori che è il pugilato, infatti sono anche un ex pugilato. Grazie per la visione.